il gioco che ho creato con laboratori di videogiochi si chiama metalnodon il nome in verità prende ispirazione dai classici meta slug e compagnia uno sparatutto a scorrimento orizzontale dove il protagonista si muove per distruggere tutto quello che vede secondo me laboratori di videogiochi è un ottimo strumento educativo mi sono trovato molto a mio agio perché l'utilizzo dei nodon è stato veramente una semplificazione di tutto il processo creativo soprattutto la possibilità di passare molto velocemente dal lato della programmazione al lato invece dei gameplay per e proprio è stato super d'aiuto con laboratori di videogiochi avevamo varie idee che abbiamo esplorato alla fine volevamo fare un gioco che usasse i joycon e gli accelerometri e che fosse fortemente basato sulla fisica quindi abbiamo fatto non saprei neanche come definirlo se è un bizzarro racing game mixto platform in cui di fatto guidi un cubo semplicemente inclinando i joycon e facendolo saltare muovendo i joycon è sicuramente un tool molto interessante e molto simile ad altri tool che si usano nella programmazione di giochi usando appunto dei classici grafici a nodi usando ci siamo accorti che è molto più approcciabile di quanto ci aspettassimo ma al tempo stesso dava anche la possibilità di fare alcune cose decisamente complesse seguire le lezioni è servito tantissimo perché introducono i concetti in modo molto chiaro di volta in volta permettendo di fare cose sempre più complicate e poi soprattutto ci siamo resi conto che dai primi esperimenti che abbiamo fatto che non erano esattamente un granché al risultato finale c'è stato una grande evoluzione essendo un team molto orientato alla narrativa la nostra prima idea è stata quella di creare qualcosa che cercasse di raccontare una storia quindi abbiamo iniziato a pensare a una breve storiella un po buffa e non sense con una serie di scelte di oggetti da raccogliere e abbiamo poi creato appunto questa piccola avventura spaziale in cui un astronauta atterra su un pianeta sperduto e deve trovare il modo di ripartire è stata un'esperienza molto interessante dal punto di vista dello sviluppatore perché presenta il processo di sviluppo del videogioco in una maniera molto diversa da quella a cui siamo abituati ed è molto interessante vedere come racconta alcuni concetti in maniera anche abbastanza divertente quindi dando una personalità ai vari nodon una personalità a bob e ellis e due istruttori che ti accompagnano nel percorso il gioco che abbiamo creato con laboratorio è un platform cooperativo nel quale i due giocatori devono muoversi su delle piattaforme premere dei bottoni per cercare di aiutarsi l'un l'altro e progredire nel livello la nostra idea era quella di sfruttare quelle che sono le funzionalità che offre la nintendo switch e in questo caso noi abbiamo optato per sfruttare i due joy con da fornire i due giocatori la mia esperienza con laboratori di videogiochi è stata un crescendo ho percepito un senso di progressione se vogliamo doppio il primo è legato al software stesso e secondo livello di progressione invece dato dal prodotto che stavo realizzando insieme a matteo perché più riuscivamo a mettere mattoncino su mattoncino e meccanica su meccanica più questo restituiva chiaramente un senso di progressione secondo me è un'ottima palestra per qualsiasi aspirante game dev può dare spazio a dei ragazzi che vogliono mettere in pratica la loro creatività di fare delle prove di cercare di capire se vi piace fare game design o approcciarsi alla programmazione può essere un ottimo strumento per incuriosire per avvicinare chi magari si è sempre chiesto come funziona effettivamente lo sviluppo di videogiochi ed è interessato a scoprire qualcosa in più grazie al laboratorio di videogiochi si può cominciare a comprendere che cosa si nasconde dietro quali sono i meccanismi che permettono a un gioco di poter effettivamente funzionare può far capire quanto sia complesso sviluppare un gioco è la prima volta che vedo che la barriera per poter programmare un videogioco è così bassa ti dà sempre l'idea di oh posso sperimentare questa cosa ci metto tre secondi se sbaglio torno indietro riprovo qua è tutto subito hands on si si mette subito le mani in pasta e si va subito a creare qualcosa tre consigli per utilizzare il laboratorio di videogiochi al meglio partire con un'idea piccola continuare a iterare e a provarla mentre si programma e farla provare a tutti i propri amici per vedere se è veramente divertente seguire le lezioni perché è molto importante seguirle altrimenti si rischia di perdersi se si inizia così da zero sperimentare cercate di uscire dal seminato le possibilità offerte dal tool sono tante quindi non limitatevi di applicare solo quello che viene spiegato nelle lezioni un altro consiglio che darei è sicuramente quello di focalizzarsi sulla parte più logica quindi di programmazione è sicuramente interessante esplorare le logiche e il design di come funzionano le varie elementi un consiglio che mi sento di poter dare è quello di sfruttare i videogiochi che vengono pubblicati dagli altri giocatori perché questo non solo ci permette di vedere che cosa effettivamente si può sviluppare in laboratorio di videogiochi ma ci permette anche di capire magari come è stata realizzata una determinata meccanica che magari vogliamo realizzare nel nostro a presto